Grazie ai fondi del PNRR da 1,7 milioni di euro Giulia Nova potrà nascere un parco acquatico al posto dell'ex depuratore nel quartiere annunziata. Un'importante opera di riqualificazione su cui il Comune Costiero ha deciso di puntare. Il tutto è partito da un'idea lanciata qualche anno fa dal consigliere comunale Matteo Francioni. In tempi non sospetti già da lontano 2019 in consiglio comunale quando si è parlato di opere pubbliche abbiamo rappresentato l'esigenza di dover riqualificare un'area che per tanti anni è rimasta un po' così all'abbandono ed è questa una zona troppo importante per il territorio di Giulia Nova, per la nostra città perché comunque costeggia la pista ciclopedonale che ci collega a Roseto, è una zona che costeggia il mare, ci sono delle attività ricettive qui vicino, c'è un campeggio e quindi è una zona che deve essere riqualificata. Il progetto potrà ora prendere corpo dopo il via libera fornito dall'Ersi che ha accolto la proposta formulata dalla Ruzzoreti che ha ceduto a titolo gratuito un'area di 9.500 metri quadrati al Comune, già proprietario di un terreno attiguo di 5.500 metri quadrati. Alla Ruzzoreti rimarrebbe un'area di oltre 100 metri quadrati dove sono alloggiate le pompe di sollevamento di una parte della rete fognaria. Adesso non rimane altro che concretizzare uno quelli che sono i fondi del PNRR, lì bisogna lavorarci, non sono fondi che arrivano da soli ma ci si deve lavorare, vanno fatti dei progetti, vanno presentati dei progetti, altrimenti rimane solo fumo e non riusciamo a concretizzarli, a trasportarli poi qui sul territorio per concretizzare quelle che sono poi le tante idee. C'è un milione e mezzo di euro da poter spendere per riqualificare l'area e da quello che abbiamo appreso anche in consiglio, in commissione, c'è la volontà anche dall'assessore di candido di comunque in tempi celeri mettere mano, quindi impegnarsi concretamente per dare qualche risposta in più a quest'area, a questo quartiere, ai cittadini di questo quartiere e a tutto il territorio di Giulianova.